Amici di Rossini TV, benvenuti ad Acqualagna, patria e terra privilegiata per il tartufo bianco. E infatti siamo arrivati qui per la 57esima edizione, una fiera internazionale nel tartufo bianco pregiato di Acqualagna. Ricordiamo che questa è un'edizione legata anche alla solidarietà. In questa occasione alcuni produttori dei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre sono stati ospitati. Ospitati perché per esempio a Pergola non è stato possibile fare la festa del tartufo che avrebbe avuto luogo proprio in questi giorni. La 57esima fiera che viene dopo altre 56, vuol dire che Acqualagna è una certezza per il territorio. L'organizzazione non è da poco, che coinvolge tante tante persone, però siamo soddisfatti del risultato. E' una fiera all'insegna della solidarietà. Purtroppo l'alluvione che ha colpito i nostri territori nella fatidica notte del 15 settembre ha condizionato molti comuni. Noi abbiamo previsto diverse iniziative proprio di solidarietà nei confronti del comune di Pergola e di Cantiano e non solo. Questi riguardano sia eventi musicali per raccolta fondi, oggi ad esempio consegneremo la Ruscella d'Oro alla città di Pergola come riconoscimento del lavoro fatto negli anni passati. Siamo molto riconoscenti a tutto il comune di Acqualagna, all'amministrazione, a tutti gli organizzatori di questa manifestazione per questo riconoscimento e per l'accoglienza che hanno fornito a Pergola all'interno della loro manifestazione, così come lo stanno facendo diversi altri comuni ai quali siamo legati tramite il tartufo. In seguito all'alluvione abbiamo purtroppo dovuto decidere, è stata una decisione difficile da prendere, ma decidere di annullare l'edizione 2022 della nostra fiera del tartufo che si sarebbe dovuta svolgere come consuetudine nelle prime tre domeniche di ottobre. Da lì in poi abbiamo riscontrato tanta solidarietà e tanta accoglienza da parte di tante città del tartufo e a loro siamo veramente grati. Amici di Rossini TV siamo qui con Stefania Tofani dell'azienda Tofani Tartufi a cui chiediamo un'impressione sulla produzione del 2022. Allora, la produzione è ancora, come quantitativi siamo un po' scarsi perché secondo me è partita in ritardo e speriamo, siamo fiduciosi, che comunque nelle prossime settimane esca ancora più prodotto. La qualità è comunque ottima perché è molto profumato e visto anche le temperature comunque calde, non avendo avuto tanta acqua, ha potuto acquisire una profumazione più intensa. La nostra famiglia commercia tartufi da ben 70 anni, quindi siamo tre generazioni di commercianti di tartufo. L'acqua lagna ormai è famosa in tutto il mondo per il tartufo bianco e siamo orgogliosi comunque di avere un'azienda che rappresenta in toto questo territorio.